Il patrimonio di Antonio e Alicia è cominciato, ecco qua. Abbiamo gli arancini, le tartine, i rustici, le pettole, insomma abbiamo già cominciato a gradire, adesso gli sposi sono andati a farsi le foto e quando ritornano continueremo a mettere tanta musica e perché no a gradire anche il melograno. Signore e signore applauso per gli sposi! Io che sto seduto dentro un cinema Applausi! Grazie! 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 Siamo stati scelti d'Antonio in base al vostro quoziente intellettivo. Ora aprite le braccia e prendete l'orecchio dell'amico che sta alla vostra destra e sinistra. Potete accarezzare dolcemente l'orecchio senza mettere il dito dentro. Accarezzate il logo, garpitene la sensibilità, la morbidezza. Basta perché state prendendo troppa confidenza. Facciamo un applauso per Ligia, si avvicina a suo marito e gli mette la mano sulla spalla. E ora, come state? Tutti insieme alzate il bacino dalla sedia. Ragazze, togliete la sedia. Vai! Applauso per i nostri gladiatori. Accio ha toccato la signorina vestito di arancione. È suo! Assumate i bambini. Ehi, bambini! Ehi, bambini! Cascade per i nostri gladiatori. La savezza per i nostri gladiatori. Allora, come state? Ehi, bambini! F愛ica per i nostri gladiatori. Ma io, bubbins curlare. Ehi, bambini! Fnosi accurate o non Almosti accurate o- Grazie a tutti.